In Carrefour vogliamo promuovere e valorizzare il talento femminile in tutta l'organizzazione nelle funzioni centrali ma soprattutto nei nostri punti vendita. Vogliamo rendere le nostre donne manager sempre più consapevoli del loro valore e del loro ruolo a partire della selezione dove ci siamo dati l'obiettivo di avere una parità di genere nelle rose dei candidati, obiettivo che abbiamo raggiunto nel 2020 con il 50 per cento di candidate donne. Nei punti vendita incentiviamo la presenza femminile nei nostri programmi di formazione dei futuri manager di negozio, il Retail Academy Program e l'Accademia dei Freschi. Prestiamo grande attenzione al gender balance anche a livello manageriale. Ci poniamo l'obiettivo di avere almeno il 40 per cento di promozioni di donne in ruoli chiave manageriali. Con Valoredì abbiamo realizzato un progetto interno di ascolto cercando di capire quali sono gli ostacoli ancora presenti alla crescita delle donne in azienda a partire dal Work-Life Balance per arrivare a realizzare pienamente l'obiettivo delle pari opportunità che è per noi un elemento fondamentale per il successo dell'azienda e per creare un ambiente di lavoro inclusivo e che valorizzi il talento.